A pro dall'Ars, su proposta della deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana, la campagna contro il femminicidio posto occupato. Si tratta di dedicare in modo permanente uno più posti da lasciare vuoti in memoria delle donne uccise, che quel posto avrebbero potuto occuparlo fisicamente se non fossero state travolte dalla violenza. L'iniziativa, nata grazie a Marian Daloro, dal 2013 si sta diffondendo nei luoghi pubblici con lo scopo di riempire le coscienze di una consapevolezza. La violenza sulle donne è un problema culturale ed una responsabilità sociale che riguarda tutti. Le adesioni alla campagna sono continue e riguardano eventi di ogni genere che si svolgono in luoghi istituzionali e di cultura. Valentina Zafarana ha spiegato che anche a Sala d'Ercole un posto sarà riservato a una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì. Un segnale per convincere quante più persone possibile a non voltarsi dall'altra parte di fronte alla violenza.